Io ho un problema di ping E' un problema nel cervello se batti Sai che che lo dico? Non dite che cosa siete Se magari toglierà streaming Voi potevate anche uscire dalla streaming Io non sono mai entrato E io ero ancora al streaming Cosa è successo? Niente che ho detto di non dire che cosa erano ma Che dimmi dire cosa erano ma Non giocava a questo gioco ma Spoiler aveva la condizione scherzata Ragazzi nooo Cosa di già Non voglio dire che è morto Noi stavo cercando di completare Qualche task Oh io Io butterei fuori fino Così Il mio sus al momento è Hey canned Mi rimondo Mi rimondo Vai non riesco a fare il task No sbrugna no Che 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 vuoi? Ragazzi ragazzi devo chiedere una cosa Andrea collegamento Anche si detto Andrecoso Perché stavi uscendo dalla stanza Dove c'era morto sbrugna No io non ho visto nessuno Io sono entrato e stavo uscendo Qual è la stanza in questione? C'è Andrea No sono entrato e sono uscito Non ho visto niente Capito? No neanche sono arrivato in cima No no ma io non ero Vabbè comunque Allora siccome Andre è letteralmente la prima volta che gioca Ci sta Può essere tranquillamente Che ha impostore il tastino con scritto Kill Andrecoso che non ha capito ancora No no io lo faccio Andrecoso secondo me non ha capito ancora da che parte è schiarato Ma tu hai figlio di WhatsApp in me che non ho fatto dire Non è MC ammazzato Allora dov'è? Ah questo qua Oddio No fringuella Ragazzi Alien è uno Perché letteralmente c'era fringuella che stava cadendo E c'era alien sul corpo di fringuella No no Io non lo so Secondo me è inciampato Purtroppo ho dovuto tradire l'altro mio commilitone Ma andava fatto Premetto che stavo facendo un po' di fatica a capire che ci volesse il cooldown delle uccisioni e quant'altro Cercavo di usare un po' i condotti Di sabotare tutto quanto Ma non avevo visto che potevo avere degli incarichi anch'io finti Però poi alla fine ho detto e se faccio una segnalazione falsa per buttare fuori qualcuno della crew? Ti ricordo Era Alla parte sinistra quella dove si vede lo spazio se non sbaglio Com'è che si chiamava il posto? Il reattore Il reattore mi sa chiaro Cioè puoi schiacciare la mappa e vedere i nomi delle stanze Ok sì no no ho visto la mappa ma non mi ricordavo più il nome della mappa Vabbè Ho trovato ho visto Secondo me Secondo me era Emma Milan sto giro Sì ma S'ho convinto Secondo me Io voterei Emma Milan vinto Che lo fate voi io penso di skippare Ok va bene Io penso di skippare Emicino me lo dice giusto Adesso vedi che abbiamo vinto ma no Ok o Emma o Giovane non erano Comunque Esuc Eh oh buono siamo in pochi Se l'impostore ci sono ancora due rischiamo di Anzi no Eh no l'impostore è l'impostore L'impostore è l'impostore Vabbè Vado a controllare che nessuno Non mi piace puntare il dito a caso Però il signor Andrecoso mi è spawnato da sotto il culo Poco prima che si spegnessero le luci Mi sei spawnato da sotto il culo e mi sono cagato addosso forte Non so se tu sei spawnato dopo la cacca o prima la vera cacca No spoiler sei spawnato prima Ehm Guarda Prova Se vuoi rischiare Mi rischia Ma mancano pochissime Eh appunto Pochissimi incarichi Io non sono uno da High risk high reward Il suo english humor non la lascia mai Il suo english humor non la lascia mai Allora è lui che ha ventato Perché quando noi siamo saliti c'è qualcuno che ha ventato E io sono abbastanza certo che sia Andreco Scusa io sono crashato prima No guarda Guarda ti posso dire una cosa Se non mi votavo da solo Avrei votato MC Dico tanto Di tanto che ci stiamo No Vittoria Allora mi è uscito dalla vent sul serio prima Perché io gli ho dato Sì Gli ho dato Io stavo lì Ti vedevo Dico ma Ma quando se ne va Quando se ne va Poi vedo che se ne va Esco ritorna Dico porca Ma questo è sicuro che mi ha visto Comunque io lo sapevo che Emo Milano era un impostore Ah basta Siamo i due Stalin Siamo riusciti a buttare fuori Entrambi Gli impostori fascisti Oh rocca tu Io odio questa task Bruh Poverocchino Però c'è veramente Bullizzato Prima Mincia Durante il secondo game Stavo andando decisamente Più sciolto E più spedito Ho capito come fare le task Forse Iniziare da impostore Non è la cosa migliore Per uno che Che ha un novizio Magari Potevo fare una partita da solo O vedere qualche gameplay Per capire meglio come funzionasse Ma Ho deciso di essere Completamente a digiuno E arrivare A fare schifo Nei primi due game Però Come ho detto nel secondo Già andava meglio Ma Al motore È morto il mio sottoposto 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 Ma come al motore? Ma c'eravamo tipo tutti Io non ho info Il mio sottoposto 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 Ma che cazzo stai a dire? No 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 Sto imparando svedese Ragazzi Qui sono Mi sentite? Sì 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 Vai finalmente Ma più Ma più Ma più Ma più Però mi dovrebbe dire Il codice La lobby Eh ma Appena finiamo la partita Ti Puode spelare Tiriamo tutto Vai No No Andre Cosa? Yes C'era il zio Ema Che era un po' troppo fermo Eh guarda No È palese No Il zio Ema Tutti Si è buttato anche da solo Giorno Esatto Giorno 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 Esatto Giorno Giorno Ma vaffanculo Io l'ho sapevo Io l'ho visto Io Io l'ho visto 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 Io quando Sbarazzano Ecco E guarda Incri... iconico mi vicino alle telecamere ho sentito un click del microfono di cosi quando l'impostore è su volete la condivisione? un attimo impostore per la seconda volta e indovinati un po' non avevo ancora capito che dovevo fare delle finte task evviva sì è esattamente quello ecco qui stavo per urlare fortissimo perché pensavo mi avessero visto invece era l'altro impostore e ho tirato un sospiro di sollievo di pazzesco perché sei uscita? oh 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 bravi bravi tutti io ho avuto paurissimo all'inizio che ho ucciso MC e ho visto che arrivava uno un altro e dico mi ha visto e invece era l'altro impostore e dico che culo infatti io ho detto ho visto lui che mi uccideva c'era dietro Nico ho detto cazzo adesso Nico riporta il corpo e dice oh quel coglione di underlink e poi invece vedo che scappano insieme e vanno nella mano questa è stata una partita a noi osetta ma abbiamo vinto magari settimana prossima porto anche il nascondino ah ah molto figo qualcuno di voi vende dei crack ah ah